Ciao a tutti, sono Vincenzo Torelli, un autore e un compositore. Questo canale nasce dall'esigenza di farvi conoscere meglio chi sono e cosa faccio. Sono molto impegnato nel sociale, gioco con il nazionale calcio spettacolo e sono il capitano. Io ho scritto diverse cose nel cinema, per la televisione, insomma, mi sono dato da fare. Non resta altro che conoscermi meglio.